Allora, il sindaco di Arezzo fa, che ha fatto il deputato, fa il sindaco e l'avvocato, ha fatto e fa anche il pittore. Questo che vedete è praticamente la cartolina che rappresenta questa mostra del 12, giusto? Il 12 c'è un'opera meritoria perché l'incasso andrà alla Caritas e al Calcet, se non sbaglio, no? La vendita delle opere, come facesti già qualche anno fa. Sì, ormai sono diversi. Da quando ho smesso di dipingere in maniera professionale, visto che mi sono mantenuto tutta l'università vendendo quadri e anche il periodo in cui facevo l'assistente. Dopodiché ho fatto sempre mostre perché produco in continuazione e li ho sempre dati in beneficenza. Questa volta la beneficenza la facciamo al Calcet e alla Caritas, che sono due istituzioni storiche della nostra città e assolutamente benemerite per tutto il bene che fanno alla gente che ha bisogno. Dove avviene questa mostra vendita? Venerdì 12, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, novembre, al Circo L'Artistico di Arezzo. Che è nel Corso Italia. In Corso Italia. Allora, ora una domanda tecnica, visto che tra artisti ci si dà del tu. Ti parlo col tu perché non sei più il mio sindaco ma sei un collega artistico. Questo mi fa piacere. Allora, questo dipinto che fino ad ora vedeva in te la preponderanza dei rossi, vede questo turchese che poi questa è tua figlia. Perché hai messo tua figlia? Mi è venuto fatto Celeste, è un ritratto della Laura che ho fatto in Celeste evidentemente perché nei confronti dei figli si ha sempre un colore di dolcezza. Senti, come ha fatto un'agitata come la tua figliola a state ferma la modella? No, per la verità l'ho fotografata. Ecco. Certo, la fotografia aiuta. Una volta le modelle erano costrette a stare ferme mezz'ora, tre quarti d'ora per studiare le ombre. Adesso è molto più facile. La si fotografa e poi dalla fotografia si traggono spunti per la pittura. È molto più semplice. Diciamo che aiuta, non sostituisce la mano del pittore ma aiuta molto. Allora, 12, 13 e 14, più precisamente venerdì, sabato e domenica, al Circolo Artistico di Arezzo in Corso Italia, c'è questa mostra del pittore Fanfani che andrà in beneficenza. Unicef. No, Unicef. Calcita e Caritas. E Caritas di Arezzo. A una certa età la memoria viene meno. È vero, quindi alla Caritas darà qualcosa anche a me. Buon calupo. Grazie.